Cos'è la proteinuria ortostatica? La proteinuria ortostatica è una condizione benigna in cui l'urina contiene livelli proteici leggermente più alti durante il giorno. Normalmente, nelle urine sono presenti piccolissime quantità di proteine, ma in questi pazienti i test con l'asta dell'urina possono rivelare una concentrazione leggermente superiore al normale. Se vengono valutati e non ci sono cause evidenti come infezioni del tratto urinario o danni ai reni, un medico può sviluppare una diagnosi di proteinuria ortostatica o posturale. Non è richiesto alcun trattamento anche se è consigliabile monitorare con follow-up ogni anno per determinare se il paziente sta sviluppando problemi. Questa condizione si verifica più comunemente nei bambini e negli adolescenti, sebbene possa svilupparsi negli adulti. Per ragioni sconosciute, circa il 3% meno 5% della popolazione perde alcune proteine nelle urine durante il giorno mentre sono attive, il termine ortostatico significa verticale e significa che il problema si verifica quando le persone sono sedute in piedi. Questi individui possono urinare leggermente più frequentemente durante il giorno e avranno anche un contenuto proteico più alto nelle loro urine. Durante la notte, la loro produzione di urine diminuisce e hanno livelli proteici più bassi. Quando la proteina nelle urine viene identificata su un normale esame fisico o medico, può essere confermata con test di laboratorio e il medico può chiedere ulteriori test delle urine per verificare possibili cause. Ad esempio, un bambino con un'infezione alla vescica avrebbe proteine più elevate nelle urine e l'infezione avrebbe bisogno di essere identificata e trattata. Se vengono eliminate le cause ovvie e il medico sospetta la proteinuria ortostatica, al paziente possono essere chiesti i cosiddetti campioni di urina divisi, prelevati in momenti specifici durante il giorno per prendere l'urina diurna e notturna. Questi campioni dovrebbero contenere quantità variabili di proteine, indicando che il paziente ha probabilmente proteinuria ortostatica. I medici notano che trovare scoperte di proteine nelle urine in futuro non causano allarme. Una volta all'anno, al paziente può essere chiesto di inviare campioni per un appuntamento di follow-up per verificare eventuali complicazioni, nel caso in cui la loro condizione si sia evoluta in qualcosa di più serio. Molte persone con proteinuria ortostatica non hanno problemi. Le persone con questa condizione potrebbero voler renderli consapevoli dei nuovi operatori sanitari. Poiché l'analisi delle urine è un test comune nei fisici di routine e negli esami utilizzati per apprendere ulteriori informazioni sui nuovi pazienti, è probabile che l'alto contenuto di urina venga notato e possa essere considerato un motivo di preoccupazione. Essere a conoscenza di una precedente storia di proteinuria ortostatica può consentire a un fornitore medico di determinare se il campione di urina è veramente anormale.